Sono partiti questa mattina i lavori di abbattimento dei 34 pini ubicati a San Tersegno sulla strada regionale 426 tra via Monsignor Sacco e via Secchio. Le due arterie sono state chiuse al traffico mentre gli operai della ditta incaricata hanno proceduto alle prime operazioni. Gli abbattimenti definiti con ordinanza del sindaco al fine di tutelare la pubblica incolumità andranno avanti per alcuni giorni e dovrebbero concludersi mercoledì. E questo nonostante proprio ieri notte il WWF si sia interessato della cosa e abbia inviato al Comune una diffida a non andare avanti con gli abbattimenti. Il documento che in sostanza chiede di revocare o sospendere l'ordinanza per poter effettuare nel frattempo verifiche più approfondite è stato inviato per conoscenza anche alla Procura di Lago Negro. Secondo il WWF, sollecitato sulla questione da Rocco Panetta del Coda Consavallo di Diano, non ci sarebbero infatti presupposti per l'emanazione di un'ordinanza urgente, visto che non sono chiari e ben definiti i fattori di rischio. Di qui il richiamo alle due perizie effettuate sugli alberi. Una del 2012, ritenuta datata e superficiale, sarebbe basata, dice il WWF, solo sull'esame esterno e non su più approfondite analisi, quando non è detto che un albero inclinato sia più a rischio cedimento di un albero dritto. L'altra, effettuata dal tecnico incaricato dalla provincia lo scorso 6 aprile, secondo il WWF si fonderebbe sulla considerazione che, indipendentemente dallo stato di salute delle piante, va valutato in primis il rischio dovuto al fatto che gli alberi sono lungo la sede stradale. Ma questo, dicono del WWF, vorrebbe dire abbattere quasi tutte le piante in Italia, visto che un rischio c'è sempre. Secondo l'associazione, dunque, l'ordinanza di abbattimento riguarderebbe più alberi di quanti davvero in stato di pericolo. Meglio, invece, sarebbe intervenire con tecniche che ridiano salute alle piante, piuttosto che operare un taglionetto. Di qui la richiesta di bloccare tutti i lavori in corso, ma il sindaco di Sant'Arsenio, Antonio Coiro, va avanti per la sua strada. I lavori proseguiranno, ha detto. Abbiamo ragione di credere in un pericolo reale. Ci basiamo su perizie di personale esperto, nominato dalla provincia di Salerno.